E a febbraio c'è una data celebrata da molti, ricordata che è il giorno di San Valentino, il giorno degli innamorati di quelli che lo sono e anche di quelli che vorrebbero esserlo. Tante le proposte e i menù per questa giornata speciale. Noi abbiamo scelto per voi una ricetta che viene dalla Cucina di Michele, un ristorante che si trova in Via dell'Industria a Heracle, che ha recentemente inaugurato appunto questa nuova struttura. Andiamo a vedere appunto la ricetta per gli innamorati dal Cucina di Michele. Il prossimo 14 febbraio, in occasione del San Valentino, lo chef Michele ha preparato un menù ad hoc. In particolare chiediamo una ricetta di questo menù di San Valentino, ovvero la ricetta del tegamino dell'amore. E lo chiediamo alla signora Vanna, aiuto cuoco proprio dello chef Michele. Sì, consiste un tegamino proprio in acciaio, proprio personalizzato, con una salsa di formaggi, mazzancolle e delle verdurine per dare colore. In questo caso specialmente rossi, pomodorini perché è l'occasione del San Valentino. Quindi il rosso per ricordare San Valentino, ma anche per ricordare proprio la cucina di Michele. Ciao! 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 Ciao!